Arrivano nuove regole a Chieti per l'assegnazione degli alloggi destinati all'emergenza abitativa. L'Aggiunta Comunale ha approvato un nuovo regolamento relativo alla riserva nei limiti del 30% di alloggi da assegnare fuori graduatoria. I nuovi criteri sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Umberto Di Primio e dal nuovo assessore alle politiche per la casa Dario Marrocco. Da oggi ci sono regole chiare e trasparenti che offrono garanzie uguali per tutti, ha dichiarato il sindaco. Rimane tuttavia il problema della grave carenza di alloggi comunali rispetto ad una domanda sempre più crescente in un momento di grave crisi economica. Di questo problema, ha aggiunto il sindaco, dovranno farsi carico regioni e aziende territoriali di edilizia residenziale in modo da consentire ai comuni di poter dare risposte alle necessità dei propri cittadini. Il nuovo regolamento indica parametri oggettivi per arrivare all'individuazione della graduatoria degli eventi diritto. L'obiettivo dichiarato dell'amministrazione comunale è quello di evitare che la speranza di molti sia gestita dalle decisioni di pochi, il comune tende anche a recuperare gli alloggi abusivamente detenuti perché è stato detto inoltre alla stampa non è più tollerabile che chi non ha diritto sottragga abitazioni a chi ne ha assoluto bisogno. Da oggi, ha dichiarato infine l'assessore Marrocco, le assegnazioni avverranno tramite provvedimento dirigenziale a seguito di istruttoria espletata dal funzionario dell'ufficio. Oggi l'amministrazione dà una risposta, una risposta importante, è una risposta che parte dall'idea che anche per la regolamentazione delle case di emergenza è necessario avere dei criteri precisi, determinati, dei criteri grazie ai quali poter dire ai cittadini sempre e per quale motivo nella gradatoria Tizio possa venire prima di Caio, quindi quali possono essere le sue aspettative anche per il futuro con riferimento alle esigenze dell'emergenza abitativa e quindi contestualmente anche quella di poter garantire per il domani una totale trasparenza nella risposta ai cittadini e se mi è consentito anche di invertire una rotta precedente perché in tutto il periodo precedente, io faccio riferimento sicuramente all'ultimo trentennio, vi era stato un principio di discrezionalità che oggi viene a essere assolutamente superato con criteri certi e una individuazione quindi di casi, di casistiche per le quali verrà attribuito un punteggio preciso a ciascuno dei richiedenti